Siamo alle pagine sportive per questo 25 gennaio, ci proiettiamo al fine settimana, da domani tornano in campo le squadre calcistiche dell'Umbria, ma c'è anche la pallavolo, ci sono anche tante altre discipline. Intanto la Serie B con il grifo scocca l'ora di Anne, il norcoleano cerca il rilancio e potrebbe rivelarsi il miglior acquisto di gennaio, finora è praticamente come se non ci fosse stato. Complice l'assenza di Melchiorri, il numero 27 bianco-rosso parte titolare contro l'Ascoli, si attende intanto l'ok per lo scambio Leali Bizzarri, ufficiale Carraro, ideabittante dall'Empoli, questo sul fronte mercato. In campo anche la Serie dopo la Coppa Italia, Serie incerottata, vince lo stesso, Leon MVP con una frattura, anche Atanasievici tra i migliori con 38 di febbre. Domenica torna al Palabarto nella squadra di Bernardi contro Vibo Valencia, muro e attacco da urlo hanno steso Padova, che bravo Ricci, 100% in attacco. Intanto i Block Devils pescano Modena in semifinale nella Final Four del 9 febbraio. Fere preso Palumbo, Ranucci sotto i feri ma resta operativo, Ranucci è il presidente, quindi nessun rimpasto nella squadra. Il centrocampista alla seconda avventura in Rosso Verde arriva in prestito fino a giugno. Siamo al Gubbio dove parla Luca Marchegiani, padre di Gabriele, portiere rosso-blu, che detiene un record davvero importante. Appena due gol subiti in casa quest'anno dal Gubbio, il record europeo. L'opinionista Sky, ex portiere di Lazio, Torino e nazionale, dice merito di staffe, squadra e in particolare sul figlio è comunque prodigo di consigli. Dovrebbe rischiare e coprire più spazio, dice compostezza ed efficacia, sono le doti che pagano. Qui li vediamo insieme in una foto di qualche anno fa, Marchegiani cresciuto nelle giovanili della Roma. Mosconi sulla strada del Falco, vorrei tornare da allenatore, dice il tecnico del Tolentino, mentre Petricci del Trestino, che è il rappresentativo nel test contro la Flaminia di Schenardi. La pagina dedicata al mondo arbitrale, Umbro, Bottimo Geraldi, così si guidano gli assistenti. E poi festa a Terni per le stelle dello sport, Big, Barillà, Giunchiglia, Carotenuto e Felici, scatta la polemica invece sulla riforma del governo. Colpo Bartoccini, pallavolo, c'è la Donà, Melissa Donà, un martello di grande esperienza, con passati in A1, evidentemente la squadra di Patron Bartoccini fa sul serio, è arrivata prima nella regular season, vuole salire di categoria originaria di Treviso, tra le giocatrici italiane più complete e grintose. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione, Ascoli tappa chiave per il grifo di Nesta, dal mercato alla classifica, con i bianconeri che puntano al sorpasso, pensando alla sosta e al Palermo dopo lo stop. Arbitrerà Marini, diresse il blitz al Del Duca col gol di Sprocati, una vittoria di qualche anno fa, decisiva poi per la promozione in Serie B. Tutto su martella, ma spunta abittante, ancora voci da mercato. Ternane, ritorno di Palermo, ancora emergenza in difesa, accordo con la Sampdoria, il centrocampista già in gruppo, mentre Gubbio, Casoli recupera per la gara di domani alle 14.30 con il Teramo, Piccini e Paolelli finiscono ai boxe. Gubbio che insegue domani la quarta vittoria di fila. Coppa Italia, Foligno trova il Tolentino di Mosconi, definito il programma del primo turno, mentre Umberti ritorna in campo, Catalin Onti, la vice allenatrice e coach della Sisa, schiamata dal Sopronne. Ano c'era, amiamo il calcio e battiamo anche l'età, i gemelli Armilei e Bombertozzi in campo, anche a 40 anni suonati. Sir Perugia, graffi ancora, ora tutti a Bologna, inizio febbraio per la Coppa, De Cecco, grande orgoglio, dice il capitano. Bartoccini ingaggiata alla Donati, Crescenzo va invece a Ponte Felcino. Per il basket di Terni attende la capolista Spello, mentre targa Umbra di tennis, Cittifoligno in bilico. Chiudiamo col messaggero che apre col grifo, ad Ascoli, triplo, croce via, classifica mercato e ambiente, ecco perché fare il risultato domani al Del Duca, dopo due K.O. diventa determinante. Santo Padre ne sta lo stato maggiore del club, giovedì a cena, sul tavolo le soluzioni per uscire dal momento delicato. Caccia al Terzino, Cacciatore e Curcio le alternative a Martella. E Grassi, doppio ex portiere di Perugia e Ascoli, dice Perugia troppo discontinuo. Perché? Si chiede appunto l'ex portiere dei Grifoni. Siamo a Terni. Ternane, ritorno di Palumbo, viene salutato anche dal messaggero, il centrocampista strappato al Catania subito in campo per poter fare il suo esorio domani con la Bispesaro. Due le giornate di squalifica, combinata a Lopez e Bergamelli, operato il presidente Ranucci, sarà assente per un lungo periodo. Festa dello sport del CONI, dopo i premi la richiesta, subito il nuovo Palazzetto. E poi, sogno, altre 200 partite con la Sierra. Le parole sono di Atanasievic, rassicurano anche i tifosi, che temono sempre in una sua partenza, opposto sempre più Perugino. È un grande onore difendere questi colori. Dopo il pass per la Final Four di Coppa, torna il campionato, domenica arriva Vibo. E poi, i provvedimenti del giugno sportivo, calce all'arbitro, mentre vincono 0-3 a Tavolini, accaduto in una partita di prima categoria, tra Porchiano e Alviano. E infine, SOS Cartellini in casa Foligno, il Lama si avvicina, mezza squadra è a rischio, squalifica. Occhio dunque, ci fermiamo, ma prima di chiudere abbiamo il Meteo. Sigla, e siamo poi tra poco di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme, torniamo in studio. L'inquadratura è per l'inserto sportivo, ma parliamo di Meteo, parliamo del Meteo di oggi. Diamo un'occhiata alla slide con la grafica e le indicazioni di Riccardo Rossi. La giornata di oggi si apre con cieli parzialmente nuvolosi su tutto il territorio regionale. Alla fine della mattinata avremo un aumento della nuvolosità a partire dal nord regionale, in estensione a tutta l'Umbria. In Appennino, nuvole più compatte che produrranno anche locali debole nevicate in quota. In serata, ancora deboli precipitazioni e quota neve collinare anche nella parte orientale della regione. Temperature minime stabili, tra meno 2 e 0 gradi, le massime stazionarie. tra 2 e 4 gradi. Freddo, molto freddo, nelle ore notturne ovviamente. Rischio ghiaccio in prima mattinata. È tutto per le previsioni. Stasera gli aggiornamenti. Prima dei TG delle 19.30 e delle 20.20 a cui si seguiranno il TG Sport e il TRG+. Da parte mia è tutto. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci anche su trgmedia.it. Buona giornata. Grazie Black people. Grazie a tutti. Grazie per la visione!